Oggi in costa ovest, con il braconiere dei braconieri, non avete capito dove mi ha portato oggi, non potete capire. Oggi in costa ovest, con il braconiere dei braconieri, non avete capito, non avete capito, non avete capito. Oggi in costa ovest, con il braconiere dei braconieri, non avete capito, non avete capito, non avete capito. Non avete capito, non avete capito, non avete capito, non avete capito. Lui si sentiva a casa proprio, pauroso. No commenti, fai il video tu, se no oggi la finiamo a amare, torna a casa a piedi oggi. E' un mese andando a ***, perché ormai non diciamo dove va a correre. La cia stella è arrivata praticamente in 10 secondi, ho fatto la capovolta, ho riempito il boccaglio di bolle. Alzo la testa, erano già da, ero due. Peccato che non ho il video, perché boh. Non lo so cosa sia successo, non l'ho registrata. Sono nel piattone e stavo camminando su un fondale piatto, avanzando lentamente. Ho visto le specchiate da lontano, mi sono girato verso di loro e mi sono incuriositi e li sono avvicinati. Ho visto serra anche più grandi, però non sono riuscito ad avvicinarli. Sono furbi questi serri, non me li sono furbi. L'unica volta che li ho visti, che non ho trovato neanche il video, ero in un pezzo molto turbido, me li sono ritrovati davanti, non ho avuto l'appoggio per riuscire a mirarli. Sì, ero velocissimi in caccia e niente, mi sono sfilati, li ho fatti sfilare. Ho dovuto panellarlo, strapparlo, che se ne vado da affanculo, sarra di merda. E quindi niente ragazzi, il bracco oggi ha stirrato, perché se lo portiamo in posti regolamentari non pesca. Ormai è abituato lì nella palude. Mi sorcio un tiro e un centro. Io ho 5 tiri e 5 padelle. No, uno l'ho strappato. Uno lo strappato e uno lo pizzicato. Non ti porto più nei miei sport. Un grande saluto a Luca Porcella per la dritta di oggi. Oh Luca, siamo usciti subito. Per l'impraticabilità di campo. Mica, non si vedeva neanche la punta dell'asta. Niente. Pavoroso con lo scopo. Non si vedevano i piedi come camminavi. Arrò due volte. Davvero. Non so se c'abbiamo il sole che è... Caro cammino cazzo. E quindi niente ragazzi, un cefalo di merda anche oggi. Forse ho qualche clip vecchia. Poi faccio un montaggio e ho fatto qualche tiro. Dai. Oh, buona amiciò. Alla prossima. Buon mare da Marco Cossudoci. E quel bracconiere di cocco. E il bracconiere di cocco. Dai ragazzi, alla prossima. Ciao ciao. Ciao ciao.